Quale paese ha quattro lingue ufficiali, otto milioni di abitanti e si trova a nord dell'Italia? Sto parlando della bellissima Svizzera, una nazione relativamente piccola che si divide in ben 26 cantoni. Che dire di questo paese? La natura è mozzafiato e ci si può sicuramente perdere tra verdi valli, alte montagne e laghi così blu da fare invidia al cielo. Se vi viene fame a Berna sappiate che il cioccolato lì è ottimo e se i dolci non vi piacciono potete sempre buttarvi sul formaggio ma fate attenzione a spendere, i prezzi che troverete in questo paese vi sembreranno altissimi e di fatto lo sono, tuttavia i cittadini svizzeri hanno salari molto alti per far fronte a questo tipo di spese. In breve la Svizzera è un paese bello, pulito, sicuro e con un tasso di criminalità particolarmente basso rispetto alla media europea, il che non lo rende un candidato ideale per uno dei miei video. Tuttavia quello che succederà nel dicembre 2015 scioccherà i cittadini elvetici, per sempre. Benvenute o benvenuti nel canale, io sono Lorenzo e questi sono i crimni di Thomas Nick. Nel video di oggi ci troviamo nel cantone di Argao, o in italiano Argovia, abbastanza vicino a Zurigo. Ma noi non siamo in quella grande città, ci troviamo infatti a Ruppersfield, un paese di appena 5.500 abitanti. Ruppersfield è molto famoso per l'industria tessile e come vi ho già detto è una comunità relativamente piccola con un tasso di criminalità praticamente assente. Nell'area i crimini più efferrati possono considerarsi dei furti in appartamento, questo fino al dicembre del 2015. Il 21 dicembre 2015, alle 11.30, i pompieri di Ruppersfield, rispondono ad una chiamata che le avvisava di un incendio che era divampato in una casa. I vigil del fuoco si recano immediatamente sul luogo e si rendono conto che l'incendio è domabile e cominciano a spegnere le fiamme. La casa che sta andando a fuoco è quella di Carla Schauer e al suo interno si presume ci siano anche i suoi figli, Dion di 19 anni e Davin di 13, insieme alla fidanzata 21enne di Dion, Simona. I primi soccorritori riescono a domare subito le fiamme e ritrovano i corpi bruciati della famiglia. Tuttavia quando li esaminano più da vicino si rendono conto che le fiamme o il fumo non sono sicuramente la causa del decesso perché tutti i cadaveri hanno la gola tagliata da un orecchio all'altro. I vigili del fuoco chiamano quindi la polizia che interviene insieme alla squadra scientifica e nonostante le fiamme e l'acqua riescono a ritrovare l'impronta digitale dell'aggressore e il suo DNA. Sfortunatamente questi dati non troveranno riscontro nel database nazionale svizzero. Questa persona con molte probabilità non aveva commesso un crimine all'interno della Confederazione Elvetica. Gli abitanti di Ruppershville sono pietrificati dall'orrore di questo crimine. Questo è un piccolo paesino dove non succede mai nulla di eclatante. Figuriamoci un quadruplice delitto. Insomma quale tipo di mostro ucciderebbe una madre, i suoi due figli e una ragazza? E in pieno giorno per poi farla franca? Ma i poliziotti svizzeri non si danno per vinti e anche se non hanno avuto fortuna con il DNA continuano le indagini. E come succede spesso in questi casi di cronaca guardano prima ai parenti, ovvero al padre naturale di Dion e Davin e al ragazzo di Carla. Tutte le persone indagate danno il loro DNA e le loro impronte digitali e vengono immediatamente escluse dalle indagini. Nessuno di loro aveva commesso questa strage. La polizia guarda l'ipotesi più spaventosa, ovvero un crimine commesso da uno sconosciuto. Gli investigatori si rivolgono anche all'Interpol e li avvertono di questo orrendo crimine. Il 18 febbraio 2016, quasi due mesi dopo il quadruplice delitto, le forze di polizia svizzere rilasciano la loro prima intervista, ma dove chiedono l'aiuto del pubblico e offrono una ricompensa di 100.000 franchi svizzeri. Dovete sapere che questa è una cosa molto inusuale per il governo svizzero. La polizia raramente è arrivata a ricorrere a questo stratagemma. Tuttavia, nonostante l'ingente somma di denaro, nessuno si fa avanti con informazioni decenti, anzi tutte le telefonate sono, chiamiamole in soldoni, perdite di tempo. Qualche giorno dopo investigatori frustrati rilasciano due foto al pubblico di Carla, prese a una banca di Ruppersfield dove aveva ritirato 1000 euro in contanti, un'ora e mezzo prima che fosse ritrovata morta a casa sua. Se vi state chiedendo perché ho detto euro è perché sì, aveva ritirato degli euro in quella banca. Si scoprirà dopo che aveva ritirato anche 10.000 franchi svizzeri da un'altra banca. È molto comune per alcuni cittadini svizzeri avere anche degli euro a casa. Tuttavia queste foto di Carla non portano a niente, o meglio una testimone si fa avanti, Vivienne, una ragazza di colore, che dice di aver visto Carla la mattina dei delitti all'incirca alle 10 in banca a Ruppersfield, proprio quando sono state scattate quelle foto. La donna ricorda di aver avuto un'interazione strana con Miss Schaurer, ovvero lei si è voltata e ha lanciato un'occhiata particolare a Vivienne. Vivienne ha pensato che fosse per il suo colore della pelle, non ha capito che in realtà quella era una richiesta di aiuto. Ed è a questo punto della storia che gli investigatori non sanno più da che parte guardare. Hanno provato con il DNA, hanno provato a chiedere aiuto al pubblico, a offrire denaro, a mettere fuori foto e tutto si è rivelato futile. La squadra di detective che lavora al caso decide di chiedere aiuto a Google e questa compagnia fornisce loro i nomi di tutte le persone che avevano digitato il nome della famiglia nei giorni successivi alla strage. E quando Google li manda restano stupiti perché in cima alla lista, il number one, era un ragazzo che viveva a 500 metri da casa Schaurer, un certo Thomas Nick. Anche se non aveva nessun legame con le vittime. Ma chi è Thomas Nick? Thomas è un nativo di Ruppersfield e diciamo che ci ha passato tutta la sua vita. A 33 anni vive con la madre ed è un tipo solitario con pochi amici, se non per i suoi due inseparabili amici a quattro zampe, che ama moltissimo. Come ho già detto viveva in un appartamento che divideva con la madre a 500 metri da casa di Carla. Viene ricordato da tutti come un cittadino onesto e faceva il coach per una squadra di football giovanile. Inoltre faceva l'amministratore di due società calcistiche, quindi era a stretto contatto con i ragazzi dell'età di Davin. Ma a parte queste informazioni che vi ho dato io, nessuno sa niente su Thomas. Le autorità cominciano a indagare su questo onesto cittadino con la fedina penale pulitissima. Analizzando il suo traffico telefonico stabiliscono che tutte le mattine alle ore 10 porta i suoi cani a passeggio e il suo telefono si aggancia a una cella telefonica molto vicina a quella di Ruppersfield, ma non quella di Ruppersfield. La mattina degli omicidi il suo telefono si aggancerà magicamente alla cella telefonica di Ruppersfield. Quindi la polizia può provare che lui non era con i cani quella mattina, ma non può provare che era a casa di Carla. Non ancora. Vedete, l'11 maggio 2016 la polizia svizzera prende ispirazione da quella italiana e fa un prelievo del DNA in stile Massimo Bossetti. Thomas viene fermato alla guida e viene sottoposto all'alcol test. Le autorità ottengono così il DNA del sospetto, che viene immediatamente messo in laboratorio e comparato a quello trovato sulla scena del crimine. E gli investigatori se lo aspettavano, è un match perfetto. È lui l'omicida. Il 12 maggio 2016, alle ore 12, puntuali come un orologio svizzero, la polizia prende in custodia Thomas Nick, che stava bevendo un caffè a Zurigo, e lo accusa di quattro omicidi, estorsione, rapimento e incendio. E la lista stava per allungarsi. Mentre Thomas viene portato in caserma, i detective fanno visita a sua madre e cominciano a perquisire l'abitazione dove viveva il signor Nick. Sul computer del signor Nick vengono ritrovate tonnellate di materiale pedopornografico, video espliciti che raffiguravano bambini dell'età di 13 anni in varie pose molto grafiche. Inoltre viene trovato uno zaino che conteneva un coltello, accendino, fascette, corde, una pistola, dei guanti e un liquido infiammabile. Sulla scrivania di Thomas viene ritrovata inoltre una lista con i nomi di 11 bambini, tutti di all'incirca 13-15 anni. Ma torniamo al computer e al materiale pedopornografico. La gente che aveva l'infausto compito di visionare questi video si accorge che in uno di questi video c'è un bambino che lui conosce bene. Non personalmente, quel bambino è il piccolo Darwin di 13 anni. Il suo assalitore è chiaramente Thomas Nick. Thomas una volta nella stanza dell'interrogatorio confessa immediatamente tutti i suoi orrendi crimini. La sua confessione vi disturberà, quindi se siete persone sensibili, schippate, metterò il timestamp qua sotto. Vedete, Thomas voleva fare un sacco di soldi, molti soldi, e li voleva fare nella maniera più stupida possibile, ovvero voleva rapire le persone e costringerle a prelevare denaro dalle loro banche per poi ucciderle. Questa era la sua fantasia. Ma questa fantasia è solo la punta dell'iceberg. Il signor Nick amava i bambini dell'età di 13 anni. Era fissato con loro, non lo aveva mai detto al suo psichiatra né lo aveva mai detto a sua madre per paura delle ripercussioni o magari più semplicemente per vergogna. Mentre Thomas Nick ha tutti questi pensieri e omicidi nella testa, una mattina sta passeggiando con i suoi cani e intravede un bambino di 13 anni entrare a casa di Carla e si fissa su questo bambino. Per lui diventa la cosa più importante del mondo e vuole stare con lui. Quindi organizza un piano e compra tutti gli accessori che metterà poi nello zaino che ha ritrovato la polizia per commettere uno dei più efferrati crimini che io abbia mai sentito. Quella mattina Thomas aveva camminato da casa sua fino a casa di Carla con il suo zaino. Aveva bussato alla porta e si era accomodato dentro fingendosi uno psichiatra della scuola a cui andava Davin. Aveva detto a Carla che c'era stato un suicidio e che suo figlio era collegato. Quindi la madre si era preoccupata immediatamente, lo aveva fatto sedere e gli aveva offerto una tazza di caffè. Quindi era stata molto gentile con lui e infatti Thomas dirà di essere rimasto lì e aver pensato a lungo prima di commettere il suo crimine. Tuttavia è quando la signora Schauer fa scendere tutta la famiglia al piano di sotto e li raduna che Thomas estrae la pistola e la punta contro i membri della famiglia. Ordina a Carla di legare i suoi due figli e Simona. Dopodiché le dice di andare a prelevare tutti i suoi soldi da una banca svizzera, la stessa alla quale è stata fotografata. Carla obbedisce ma prima di andare via Thomas le dice che aveva un complice, cosa che non era vera, e che questo complice era lì ad aspettarla alla banca e se avesse fatto qualche verso strano il suo complice l'avrebbe avvisato e lui avrebbe ucciso tutti a casa. Una volta che Carla torna con i soldi dalla banca Thomas la lega e fa salire Davin di 13 anni al piano di sopra dove gli farà delle cose che preferisco proprio non dire su questo canale. Il signor Nick conferma poi ai detective di essersi ripreso mentre commetteva questi gesti osceni e dice loro che visionava il filmato ogni giorno per darsi piacere. Dopodiché raduna tutta la famiglia in soggiorno ed uno ad uno li uccide tagliando le loro gole con il coltello. Aveva una pistola solo che ha detto che con il coltello sarebbe stato meno doloroso, cosa non vera perché hanno sofferto molto. Inoltre è stato abbastanza orribile perché tutte le persone nella stanza hanno assistito al destino dei loro cari prima che toccasse a loro. Dopo aver ucciso tutte e quattro le persone presenti nella casa Thomas dà fuoco all'abitazione e scappa dirigendosi a casa sua. Dopo andrà a un casino e andrà a mangiare con il suo team di football, con i ragazzi di 13 e 15 anni. Tutto questo dopo aver ucciso quattro persone. Thomas dirà che dopo i delitti ha rimesso tutta l'attrezzatura, come la chiamava lui, dentro lo zaino per commettere un altro crimine. Tuttavia una volta arrivato al dunque, cioè una volta arrivato proprio davanti alla porta di questo ragazzo e si sta parlando dell'11 maggio, quindi quando gli hanno preso il DNA alla Massimo Bossetti, Thomas si tira indietro e decide di non proseguire con il suo piano malato, dato che il suo precedente crimine non aveva rispettato le sue fantasie. Lui voleva avere più un rapporto amorevole con il bambino e non voleva ucciderlo, anche se poi, come sappiamo bene, le cose sono andate diversamente. Se vi state chiedendo perché Carla non ha dubitato che fosse uno psichiatra della scuola è perché lo aveva visto in zona a Ruppersville portare fuori a passeggio i suoi cani e poi Thomas era stato abbastanza furbo e aveva falsificato dei fogli, i quali attestavano che lui era effettivamente lo psichiatra di Darwin. A processo Thomas Nick si dichiara colpevole di tutte le accuse e viene condannato a carcere a vita con la possibilità di essere rilasciato un giorno. Vedete, in Svizzera, per essere condannati all'ergastolo senza possibilità di condizionale, due psichiatri che devono avervi intervistato in precedenza devono dire con assoluta certezza che per voi non c'è possibilità di riabilitazione. Al processo di Thomas Nick, uno dei due psichiatri si rifiuta di dire che per il signor Nick non c'è possibilità di riabilitazione, anzi afferma che c'è possibilità di riabilitazione in futuro. Thomas Nick durante tutto il processo dirà di vergognarsi tantissimo per quello che ha fatto e che gli dispiace, anche se io non credo, dato che è stato così tanti mesi in libertà, insomma poteva costituirsi se gli dispiaceva veramente, invece ha preferito rimettere tutta la sua attrezzatura nello zaino e prepararsi per un secondo crimine. La difesa inoltre a processo cercherà di spiegare al giudice che il signor Nick ha cercato più volte di fermarsi in questo crimine, che non voleva farlo dato che il risultato non corrispondeva alle sue fantasie. Thomas Nick si trova al giorno d'oggi in una prigione svizzera e non chiedetemi quale perché gli svizzeri si tengono queste informazioni molto vicine al petto. E non so dirvi se un giorno tornerà mai in libertà. Non riesco davvero a immaginare il dolore dei cari che hanno perso qualcuno in questa maniera. Carla, i suoi figli e Simona erano tutte persone rispettabilissime, con una vita davanti. Erano una famiglia ben voluta da tutti. E sono convinto che Ruppersfield continuerà a sentirne la mancanza. Grazie per aver visto questo video. Se vi piacciono questi casi iscrivetevi, mettete mi piace, insomma le solite cose, ma la cosa più importante, statemi bene. E noi ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao! Ciao!